Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel canale YouTube Scacchista Matto. Oggi commento, anzi continuo a commentare il Champions Tour, la prima tappa che si sta giurando in questi giorni e in particolare la partita tra Firugia e De Riga Isi. Un Firugia completamente non in forma, stiamo vedendo in questo torneo, infatti è stato battuto di misura con un fortissimo attacco da parte di De Riga Isi. Allora vediamo subito questa bellissima partita. In tutto ciò che non l'hai già fatto, ti chiedo di soltare che mi dobbiamo cliccando qui sotto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E4-E5 con la F3 con la C6, al fine in C4 con la F6-D3. Apertura italiana, apertura italiana che ho già commentato ampiamente nel canale, vi metto qui sopra il video di 13 minuti, magari ve lo lascio anche in sua impressione a fine video così potete poi andare ad approfondire questa apertura, che vi consiglio. Io stesso l'ho giocata per molti anni, fino al livello di seconda nazionale se non sbaglio, quindi 1700 e devo dire mi ha portato ottimi risultati. Poi sono passato all'apertura spagnola, ma è solo una scelta di gusti, è assolutamente consigliata. Al fine in C5, C3, con una duplice idea potrebbe essere per giocare D4, ma anche per espandere a senato di donna con B4. Ed è proprio in realtà quest'ultima idea che utilizza Firugia. Alfiere in E7, cavallo in D2, D5, si contrattacca al centro da parte di Riga Isi. Questa è una linea molto teorica, considerate che Carlsen ha giocato in tantissime sue partite, infatti vedono da base Carlsen Aronian, Carlsen Ghiri, Carlsen Nakamura, tutta giurata nel 2021 proprio in questa linea, quindi apertura super teorica. Alfiere B3, Alferine E6, sceglie Riga Isi, Arro Corto, A6. Quindi si completa l'apertura e la posizione è assolutamente pari. Quali possono essere un attimo i piani? Allora, certamente il bianco deve completare lo sviluppo, deve sviluppare questo alfiere, dove probabilmente in B2, una volta che ha mosso il pelone B per espandere la senato di donna, si è liberato il fianchetto, potrebbe essere un'idea interessante svilupparlo in B2. Nell'italiana questo alfiere si può anche sviluppare in G5, però in questo caso non vi consiglio di muovere i pelone di donna, in quel caso un'idea potrebbe essere poi quella magari di attaccare la senato di donna, di re e quindi portare tutti i pezzi, come il cavallo, nel lato di re, con cavallo F1, G3. Altre idee, le torri si possono posizionare meglio, quindi nelle colonne, dove si possono posizionare le torri? Nelle colonne che in futuro si potrebbero aprire. Infatti Firuza gioca torre 1, donna in D7, alfiere in B2, pelone per E4, pelone per E4. Qui cattura di cavallo in realtà si potrebbe anche giocare con l'idea di tenere la colonne aperta, probabilmente a Firuza non piaceva questo pelone di D3, che ora è un po' arretrato, ma non è scorretta e quindi è giocabile. Pelone per torre in D8, A4, cavallo in H5, G3. Qui cominciò comunque a notare che Enrique I si sta creando debolezze nello schieramento del bianco, infatti ha forzato la mossa a G3 per evitare cavallo F4 e comunque qui cominciano ad esserci case deboli. La colonne di D6 è aperta e Enrique I si ha già la torre e la regina raddoppiate, quindi sta ottenendo una bella posizione. Alfiere H3 subito sfrutta queste debolezze e controlla le case chiare. Re in H1, cavallo in F6. Il cavallo torna un attimo indietro perché in H5 banalmente non sta facendo nulla. Donne in E2, alfiere G4, anche l'alfiere ha terminato il suo compito, è una migliore casa da occupare. Ora sta inchiodando il cavallo in F3 e attenzione qui perché insieme anche alla torre e alla regina si potrebbero creare anche minacce tattiche in futuro. Cavallo in C4, alfiere in D6 per difendere il peone in E5. Re in G2 per difendere il cavallo in F3. Libera un po' questa regina che in questo momento non si poteva muovere. Re in G2. B5, controattacca e rega Isi nel lato di donna e soprattutto scaccia via questo cavallo. Che dopo il peone per, il peone per se ne va in A3. Una mossa molto strana da parte di Firugia. La mossa ovvia poteva essere cavallo in E3. Probabilmente si è spaventato della cattura in E4. No, non è possibile perché è una mossa abbastanza ovvia l'attacco di scoperta. Qui vi è cavallo per G4, donna per e donna per cavallo. Quindi il peone in E4 non si può catturare. Non so come mai Firugia non ha giurato cavalli in E3. Probabilmente il motivo è che l'ha mancata. Quindi denota un po' di mancanza di forma, come dicevamo all'inizio. Il cavallo in E3 comunque sembrerebbe la mossa più naturale. Si mantiene il cavallo verso il centro, controlla le case D5 ed F5, attacca anche l'alfine in G4. Il cavallo in E3 invece non è il massimo. È vero che attacca il primo è B5, quindi non è un cavallo inutile. Però è comunque defilato. Inoltre dopo torre in B8 non si può catturare il peone in B5 perché arriva torre per cavallo. Ma può essere che magari questa aveva mancato. Torre per B5 e a questo punto donna per torre segue al F3 per F3, re per R. Questo re è un po' a zonzo e inoltre vi è una bellissima mossa tattica. Se vi va pausa il video e vi invito a trovare la mossa vincente qui per il nero. I temi sono attacco di scoperta e basta, è scacco a re. Quindi la mossa è cavallo in D4 scacco. L'idea è che si attacca il re ma soprattutto si attacca la regina. Quindi può darsi che semplicemente Firuja nel momento in cui ha giocato cavallo in A3 non ha visto che il primo è B5 in realtà non si può catturare. E quindi si ritrova con questo cavallo defilato. Cosa c'è lo defilato? Che ovviamente porta la posizione in un binario favorevole per Eric Aisi. Donna in E3, cavallo in E7. Ora si riposiziona il cavallo in modo tale che può contribuire in maniera migliore all'attacco. Cavallo in G5, donna in C8. F4, F4 è un altro errore perché indebolisce la posizione da parte del bianco. Sappiamo che ogni mossa di pedone crea debolezze ed F4 in effetti le crea. H6 per scacciare il cavallo, cavallo in F3, pedone per, pedone per, al filo H3 scacco e adesso comincia l'attacco vero e proprio da parte di Eric Aisi. Un attacco veramente forte che non porta, cioè che praticamente termina la partita. Perché dopo Re H1 bisogna portare ora tutti i pezzi all'attacco, qual è il miglior pezzo ovviamente che contribuisce all'attacco? Certamente la regina, donna in G4, minaccia a matto in una. Si può evitare in maniera molto semplice, è quello che fa Firuja, giocatore in G1, evitando il matto e attaccando la regina. Ma a questo punto cade più in F4. Qui veramente Firuja poteva cambiare le regine in maniera tale da concludere l'attacco per il nero. Qual è il problema però? Che qui la posizione del bianco è terribile. Ha un pelone in meno. I pezzi completamente scoordinati, non sanno bene quello che fanno. E quindi il nero ha una posizione praticamente vinta. Questa alfiere in B2 non fa nulla, il cavallo è appunto defilato. Le torri sono pronte ad entrare in terza traversa. L'alfiere può attaccare subito il cavallo in F3. La posizione del nero è veramente fantastica. E quindi giustamente Firuja ha avvenuto la posizione inferiore e decide di non catturare in F4, ma cambia poco. Anzi, forse peggiora la posizione, perché ora arriva la forte cavallo in G4. Guardate qui. L'idea ora è che la regina non si può più catturare. Che succede se il bianco cattura la regina in F4? Mettete pausa al video per trovare la mossa vincente. Se il bianco cattura in F4 vi è un matto di cavallo. Il re è intrappolato. Bellissimo scacco matto. E questo tema, ora giustamente Rigaisi lo sfrutta più volte. Donne in E2 gioca Firuja. Perché gioca Donne in E2? Perché qui banalmente Rigaisi sta minacciando Donna per E3. Che non è più un cambio di regina, ma è proprio scacco matto. E quindi Donne in E2 segue Donna per E4. E adesso è un problema. Perché questa regina non può essere catturata. Perché segue appunto nuovamente questo fantastico matto di cavallo. E qui la partita ormai è finita. Al fine in C1 il cambio di regina porterebbe alla difesa del matto. Quindi il cavallo in G6 si porta un altro pezzo di attacco. Quindi non bisogna mai essere contenti. Bisogna portare tutti i pezzi all'attacco. Questo lo dico e lo ripeto sempre. Al fine C2. Donna in C6. C4. Attenzione qui. Perché il bianco sta cercando un contrattacco. Ma la partita ormai è finita. E infatti dopo torre B e 8 portando l'ultimo pezzo che mancava all'attacco. Anzi in realtà manca anche la torre in F8. Comunque non c'è stato bisogno. Dopo torre B e 8. Firugia abbandona. Aveva anche 3 secondi sull'orologio. Quindi anche per questione di tempo qui non ha modo di trovare mosse buone. Perché? Perché è tutto legato. Quindi la torre attacca la regina. La regina sta difendendo il cavallo in F3. Quindi deve rimanere a difesa di questo cavallo. Però come fa? Se va in D1 oppure in D3 arriva cavallo F2 scacco matto. Quindi deve difendere il cavallo in F3 ma anche la casa F2. Non si può. Se va in F1 l'alfile cattura. Nella colonna E c'è la torre. Quindi banalmente a qualsiasi mossa la regina viene catturata. E quindi la partita è terminata. Ditevi nei commenti che ne pensate. Secondo me è una partita fantastica da partire da Isi. Che invece la cantutura è veramente in forma. Ha giocato benissimo. Quindi si è meritato questa vittoria. E vi chiedo di lasciare un like se vi piacciono il video. E vi lascio più delle video in sua impressione. In particolare quello sull'italiana. Che vi consiglio di vedere. Ci vediamo alla prossima. Ciao.